Buon umore, creatività, affetti, concentrazione, coraggio, riposo, energia. E tu, di che ingredienti hai bisogno? Che le vostre sfide quotidiane, siano piccole o grandi, affidatevi alle proprietà del cibo. Happy food, happy life. Buonissimo. Con Marco Bianchi. La mia cucina delle emozioni. Ogni sabato alle 13.50 su Food Network, canale 33.